bentornati adesso è seguito tv buonasera beppe ma fabio buon anno è buon anno buon anno guarda bene l'ultimo dell'anno dove sei andato io sono stato in famiglia te te pezzo la mia festa che c'era invitato ma ti muovi aspettiamo che risca un po il bambino questa che mi fai cantare un'altra volta è l'unico che conosci su quello potevo andare a tele mike sai quando ti presentavi è vero è vero senti un po bene hai visto di peggio si si allora siamo a monte sopra gondine guarda dove ti ho portato in questo primo ss dell'anno nella strada che va la strada che va a ricavi a quel famoso ponticino dalla parte di ponte buriano qui vedi che c'è questo ponte che è un po puntellato insomma non è un po parecchio un po è un ponte datato che richiederebbe forse un interventino è un problema sarebbe perché questo è l'unico venendo da rezzo è l'unica possibilità che c'è a monte sopra rondine rimarrebbe un paese completamente isolato se non passare dalla strada sterrata di casal cincio ci rapiva maiano poi quindi si aggraverebbe la situazione del paese in un modo pauroso se ci fosse problematiche su questo ponte oddio mi sembra puntellato molto con tante ungherine quindi sicuramente reggerà però qui è un intervento provvisorio sicuramente dovrà intervenire l'amministrazione perché penso questa è una strada comunale in modo tale da ripristinare la lasciabilità del ponte per se stesso e non così tra l'altro del caso si è occupato anche il consiglio comunale nel senso che c'è stata un'interrogazione dobbiamo dire di un consigliere molto attivo che è alessandro caneschi del partito democratico al di là del partito democratico però è particolarmente attivo soprattutto si distingue per segnalare delle problematiche abbastanza concrete ha incontrato i cittadini di monte soprarondini appunto pare che un professionista abbia certificato qui un grave dissesto nelle strutture appunto di questo ponte e quindi non ci voleva non ci voleva non siamo professionisti non siamo tecnici del settore siamo molto profani ma sicuramente se ci hanno messo tutto in lunga linea qualche problema quindi non c'è stata risposta al momento ma mi spieghi una cosa perché alcune interrogazioni questa è una cosa che forse ti ho già chiesto alcune interrogazioni c'è la risposta immediata dell'assessore del sindaco e altre interrogazioni risposte vengono lasciate così ma questo è normale scusa se io il problema lo conosco mi alzo e ti do la risposta immediatamente se il problema non lo conosco devi parlare con i tecnici non posso essere non mi presenti le dicevano prima queste interrogazioni non si potrebbero preparare ma molte volte vengono fatte così sul momento quindi di conseguenza non è possibile rispondere immediatamente e poi molte volte c'è anche la volontà politica di non rispondere perché poi l'interrogazione al sindaco è particolarmente di natura politica il sindaco se ha voglia risponde se non lo voglia non risponde mai come facevi te che non lo rispondevi mai come io sento quello mai fatto vice sindaco io ho sempre risposto perché rispondevi tu ma è logico ero tranquillo non avevo mica nessun tipo di problemi logicamente se erano faziose no non le accettavo ma se erano cose concrete perché non rispondere comunque oltre a questo ponte è un periodo che per i ponti ci sono un po' di problemi no? sono finiti dopo quello della Befana non ce n'è più è che quest'anno ce ne sono stati anche diversi dopo fino a maggio scordati lì hai fatto una battuta splendida devo dire dicevamo per i ponti è un po' un problema e comunque sia oltre a ponte buiano ne abbiamo fatti anche altri che non sono messi bene che richiuderà e quindi si creano i problemi comunque sempre dall'interrogazione apprendiamo che qui a monte sopra rondine c'è anche un problema legato a una mancanza di un parcheggio pubblico mancata pulizia dei fossi e delle caditoie e poi si chiede anche di mettere una zona 30 di velocità di traffico limitata e anche l'aumento della raccolta dei rifiuti il comune di Arezzo dice Alessandro Caneschi con la nota polemica non finisce a indicatore è vero è vero per quanto riguarda la velocità 30 in effetti la strada del paese è molto stretta e anche dissestata ma soprattutto su passa in mezzo alle case quindi molto stretta sicuramente non è necessario il cartello di 30 all'ora perché qualsiasi mobilista con un po' di senno automaticamente non va più di 30 però mettendo un cartello di mentre abitato di andare a 30 non sarebbe male poi le caditoie il problema di qui ma è un problema di tante altre parti un po' generalizzato e anche gli altri problemi fu fatta una ricerca a suo tempo per la creazione di un parcheggio però non fu trovata un'area se ne trova una però poi non ci fu la disponibilità del proprietario quindi di conseguenza non è stata fatta il parcheggio che viene richiesto perché in effetti vicino alle case non c'è possibilità magari andando un po' per la strada del cimitero ci sarebbe però naturalmente poi quello diventa fuori del paese e nel paese è un po' difficile in queste frazioni si sa che così si sentono un po' trascurate da sempre è passata dalla lontananza vi salutiamo ci vediamo domani ciao